Attorno alle 14.30 di martedì una volante della questura è intervenuta in Corso Italia presso il negozio Foot Locker dove erano stati segnalati tre giovani che avevano asportato un paio di scarpe alla ginnastica. L'allarme è stato dato dal responsabile che aveva notato tre ragazzi entrare nel negozio e chiedere di visionare uno specifico modello di scarpa Nike. Una commessa dopo aver messo loro a disposizione le starche si era distratta dovendo soddisfare le richieste di un altro cliente. A questo punto i tre che si erano espressi in lingua italiana con marcato accento slavo si sono diretti verso l'uscita dandosi alla fuga a lungo Corso Italia. La commessa venutasi del fatto è riuscita a bloccare uno dei giovani proprio in prossimità dell'uscita che era riuscito però a divincolarsi reagendo con violenza e spintonando la commessa allontanandola. Le ricerche in zona dei tre hanno dato esito negativo.